Ciao a tutti, eccoci insieme allo stadio centrale di Roma all'interno della splendida fornice del Foro Italico. Oggi con noi Gustavo Pratt, giocatore professionista di padel con la Pia Giulia. Cosa ti ha conquistato nel padel rispetto al tennis? Il ricordo che tengo è che il primo giorno mi ha piaciuto e è vero che quando conosci il padel a 11-12 anni, tutti i giorni della mia vita ero nella pista di padel. Lui ha detto fondamentalmente che ha giocato a tennis fino a 12 anni. Quando è entrato in un campo di padel tra gli unici 12 anni è rimasto dentro al campo di padel per tutta la vita. Ogni giorno si è innamorato del padel. Allenare grandi campioni è stressante e come si concilia con la vita privata? Sì, un po' di stress, però molto poco perché è veramente quello che mi piace. Justo ayer le commentavo a tutti i giocatori a la mattina che se non stessi qui, pagaremmo per essere qui. Que disfrutemmo di questi giorni perché sono stati unico. Obviamente allenare a un campione è fonte di stress, però se sente fortunato fare quello che fa perché ama quello che fa. Se non allenare un campione, pagarebbe il biletto per essere qui. Giulia lo chiede a tutti, però dice che quando giocano loro le quittano al padre, quindi non si pone molto contenta. Quindi l'orario del partito non sta contenta, però poi quando passiamo per le città se lo passa bene. Giulia praticamente le dice spesso al padre che indicativamente deve condividere il padre che allena i ragazzi. Perciò quando allena i ragazzi, poi nel tempo libero cerca giustamente gustavo di essere un buon allenatore ma anche un buon padre. Ti piace partecipare con lui in prima persona ai grandi eventi giochi al padel? Allora, le chicas te preguntano due cose. Se ti ha gustado stare aca nel Foro Italia con questo torneo di Roma, ti piace? E se ti piace giocare al padel, se non giocare al padel, non giocare al padel. A ella le gusta aver stato qui, le gusta stare qui e piace stare qui, scusate. E no, non giocare al padel. A presto. A presto. A presto.